Nuovi arresti a Parigi e Bruxelles nelle ultime ore 7, le persone fermate dalla polizia ha preso quello che è considerato il più importante reclutatore di jihadisti in Francia. Stava preparando un nuovo attentato, nella capitale belga ferito un terrorista, nello zainetto aveva degli esplosivi, Salah non collabora più con gli inquirenti belgi, riconosciuto il corpo di Patrice Arizzo. Sotto accusa all'intelligence belga per le numerose falle degli ultimi mesi, era nota l'informazione sulla presenza in Turchia di Alba Krui, uno dei terroristi. Polemiche per la mancata chiusura della metropolitana dopo l'attentato in aeroporto in Italia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla banca dati del DNA, che dovrebbe facilitare le attività di identificazione. Mustafa Al-Kaduli, tesoriere dell'ISIS e numero 2 di quell'organizzazione, è stato ucciso in un'azione delle forze americane, un duro colpo per il califato che è costretto ad arretrare militarmente anche a Palmira, che sta, luogo dove sta avendo successo, l'offensiva dell'esercito di Damasco con l'appoggio dell'aviazione russa. Secondo la procura del Cairo, Giulio Reggeni è stato vittima di una banda di cinque rapinatori, tutti uccisi dalla polizia egiziana. La polemica è dell'Italia che non crede a questa versione, vogliamo la verità, ribadisce il ministro Gentiloni ed è sdegnata la famiglia del giovane studente assassinato. È una messa in scena, dicono. 7.30, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del Tg la 7 di oggi. Allora, ci sono stati tanti arresti nella giornata di ieri, arresti in Belgio, arresti in Francia, fermi anche in Germania, ma la cosa importante è che con queste operazioni di polizia, come dice Hollande, sarebbe stata smantellata la cellula di fuoco che ha colpito a novembre a Parigi e pochi giorni fa a Bruxelles, ma resta naturalmente ancora la rete del terrorismo islamico in Europa. Con l'ultimo arresto, la cellula di terroristi di Parigi è stata quasi annientata, restano però altre minacce e si cerca ancora un 28enne siriano. Lo ha detto il presidente francese, François Hollande, quattro ore dopo che il premier belga, Charles Michel, aveva annunciato la ripresa dei raid in Siria. Due giorni di rettate che hanno avuto il momento più drammatico ieri, attorno alle 13.45 a Sherbeck, cintura di Bruxelles. Alla fermata del tram dell'Evenue-Rogier, dove gli agenti hanno immobilizzato, ferendolo ad una gamba, un uomo che si ritiene legato a Redacri, che il francese è condannato a dieci anni di reclusione, arrestato giovedì sera ad Argentè, Ballier di Parigi. Colto di sorpresa, l'uomo di cui ancora non conosciamo il nome, si è avventato su una bambina nelle vicinanze, prendendola di fatto in ostaggio. È stato l'attimo in cui si è temuto, il peggio, ma per fortuna è caduto a terra colpito e lei si è potuta divincolare. Per alcuni testimoni sarebbe arrivata con lui sulla banchina, per altri si tratterebbe della figlia di una donna, fatta allontanare poco prima dall'uomo, che indossava uno zainetto contenente esplosivo. Potrebbe essere un pesce grosso, dicono gli inquirenti, così come lo era Najim Lacraoui, l'artificiere del gruppo, identificato adesso con certezza attraverso l'esame del DNA, su quel che di lui è rimasto all'aeroporto di Zaventen, dove si è fatto esplodere insieme ai fratelli Bacaroui. La Farnesina intanto ha confermato ufficialmente la morte nelle stragi di Patricia Rizzo e Jennifer Schintu-Weizmann, cittadina tedesca di origini italiane. Le due donne sono state identificate tra le vittime dell'attacco alla metropolitana di Malbec, a pochi passi dalle istituzioni europee dove la Rizzo lavorava. Tutto questo, mentre resta ancora misterioso il ruolo che ricopriva negli attentati di Bruxelles, sarà Abdeslam, il terrorista belga, unico supersito delle stragi del 13 novembre, preso nell'appartamento di Molenbeck, di cui si è scoperto adesso la polizia belga, conosceva da tempo l'indirizzo. Dal suo interrogatorio sono infatti emerse solo contraddizioni e palesi bugie, pronunciate prima di chiudersi a Riccio e comunicare attraverso Sven Meri, il penalista che lo assiste, di non volere più dire niente, ma di essere estradato più presto in Francia. Fin qui il punto sulle indagini e poi ci sono le polemiche che continuano ad investire polizia e servizi di sicurezza belgi per le molte falle di queste settimane. La responsabilità dunque sarebbe di un unico funzionario belga distaccato ad Istanbul. Dal 26 giugno 2015 era stato messo al corrente che Ibrahime Elba Krui, cittadino belga in libertà condizionata, già uscito illegalmente dal paese, si trovava in Turchia e, secondo le autorità di Ankara, era diventato un pericoloso jihadista radicalizzato. Niente però è stato fatto per fermarlo. L'ammissione del ministro dell'interno di Bruxelles, Jean Jambon, è arrivata ieri in Parlamento. Il funzionario non ha informato i suoi superiori. La polizia, che seguiva il dossier di Elba Krui, per la sua condotta da condannato in libertà condizionata, non ha saputo nulla. La linea di difesa del governo belga pare debole e la questione non riguarda solo il presunto funzionario negligente distaccato in Turchia. Le falle nel sistema sono diverse, a cominciare dall'efficienza dell'Ufficio per la Sicurezza, l'Ocam, che evidentemente ha saputo solo a dicembre scorso, dopo il Bataclan, che Ibrahim era un pericoloso jihadista. Anche l'Olanda, che ha ricevuto le stesse informazioni dalla Turchia, non ha pensato di informare subito le autorità belghe. Ma soprattutto, a fallire, è stata la procedura d'emergenza subito dopo gli attacchi, come ha sottolineato l'ex ministro della giustizia, Loret Ongselin. Dopo l'attentato all'aeroporto Zizavantem, infatti non è stata subito chiusa la metropolitana, cosa che avrebbe potuto evitare la seconda strage. E per fare chiarezza sui tanti punti oscuri della vicenda, la prossima settimana in Belgio, dopo le festività, dovrebbero partire i lavori di una commissione d'inchiesta parlamentare. Palmira potrebbe cadere nelle prossime ore di nuovo in mano all'esercito regolare siriano. E poi c'è il numero due dell'Isis, colpito da un'azione militare americana, colpito e ucciso. Se sul campo in Europa i terroristi sono all'attacco, nei territori dove il califato cerca di avere il proprio controllo, ci sono alcune sconfitte. All'offensiva in Europa è in difficoltà in Siria e Iraq. L'Isis ha incassato due duri colpi, il primo dagli Stati Uniti. Il segretario alla difesa Ashton Carter ha annunciato ieri che è stato eliminato il tesoriere e numero due dell'Isis, Mustafa Al-Qadhuli, noto anche con il nome di Ajimam. L'uomo era riuscito a scalare posizioni nella gerarchia del califato, arrivando ai vertici dopo il ferimento dell'autoproclamato califo Abu Bakr al-Baghdadi, avvenuto quasi un anno fa. Il capo del Pentagon ha spiegato che Al-Qadhuli era un terrorista noto fin dai suoi legami con Al-Qaeda e uno dei tre obiettivi di maggior valore tra gli uomini in nero. La sua morte, ha aggiunto Carter, è un colpo per le finanze del califato, per la loro capacità di pagare e ingaggiare reclute. Sulla sua testa pendeva una taglia da 7 milioni di dollari. Il Pentagon ha sottolineato come i personaggi nel mirino delle operazioni statunitensi facciano parte di quell'apparato che lavora per reclutare e addestrare per conto dell'Isis. Siamo più che mai al fianco dell'Europa, abbiamo gli stessi nemici, ha detto Carter. L'altra pessima notizia per il califato arriva dal fronte. È stata liberata dai governativi siriani la cittadella di Palmira, un patrimonio di tutta l'umanità, sfregiato più volte dall'Isis che utilizzava le antiche rovine quali palcoscenico per le proprie atrocità. Tuttavia, l'Isis ieri ha rivendicato due attentati, uno a Baghdad, l'altro nello Yemen. In tutto sono morte oltre 50 persone. Banca dati nazionale del DNA è questa una delle iniziative prese del nostro governo per cercare di affrontare al meglio la minaccia terroristica. A quattro giorni dalle stragi di Bruxelles si va configurando la strategia italiana contro la minaccia terroristica islamista. Il Consiglio dei Ministri decide la Costituzione e le modalità di funzionamento e di organizzazione della Banca dati nazionale del DNA, attesa da anni. Soddisfatti i ministri dell'interno e della giustizia, abbiamo realizzato un passo in avanti, spiega Angelino Alfano, che a pochi precedenti in Europa si tratta di un formidabile strumento dal punto di vista informatico che consentirà l'archiviazione di dati che saranno importantissimi sia nella lotta al terrorismo sia nella lotta alla criminalità organizzata sia ancora nel contrasto all'immigrazione irregolare. Per Andrea Orlando si tratta di una misura fondamentale per aumentare il livello di sicurezza del Paese. La Banca dati, aggiunge il guardasigilli, consentirà non solo di agevolare le indagini ma anche di affrontare casi che sono considerati risolti alla luce della strumentazione disponibile. Comunque in materia di sicurezza il Viminale decide di potenziare la vigilanza sul territorio. Una circolare del capo della polizia, Alessandro Pansa, prevede l'attivazione di mirati e frequenti posti di blocco, l'intensificazione dei controlli su strade e autostrade, soprattutto di in prossimità di caselli, barriere e snodi stradali maggiormente congestionati. Per quanto riguarda invece le decisioni dell'Unione Europea, serpeggia una certa delusione sui risultati del vertice di due giorni fa a Bruxelles tra i ministri dell'interno e della giustizia dei 28 per rispondere alla minaccia terroristica internazionale è sempre più incombente. Per Alfano alla fine è arrivato solo un indice delle cose da fare. Ora, spiega il concetticismo, aspetteremo lo sviluppo. La Croce di Cristo oggi è nei profughi e nelle vittime del terrorismo. Lo ha detto ieri durante la Via Crucis a Roma, Papa Bergoglio, mentre proseguono le celebrazioni in vista della festività di Pasqua domani fra straordinarie misure di sicurezza. Nei preti pedofili, nel cimitero insaziabile del Mar Mediterraneo, nei profughi, nei terroristi e nei corrotti. È qui per Papa Francesco che vediamo ancora oggi la Croce di Cristo. Questa la denuncia nella lunga e struggente preghiera o Croce di Cristo che il Pontefice ha rivolto ieri sera ai fedeli al termine della Via Crucis del Giubileo che si è svolta come ogni venerdì santo al Colosseo. Un evento al quale hanno partecipato migliaia di persone. C'erano anche gli ex reali del Belgio, Alberto II e Paola che hanno salutato il Pontefice a pochissimi giorni dai tragici attentati di Bruxelles. A portare la Croce nelle 14 stazioni accompagnate dalle meditazioni del Cardinale di Perugia Gualtiero Bassetti sul tema Dio e misericordia, oltre al Cardinale Agostino Vallini anche molte persone di diverse nazionalità tra cui cinesi, russi, siriani. In una Roma blindata tra un doppio filtro di metal detector, squadre antiterrorismo nella stazione Colosseo della metropolitana chiusa a segnare anche a futura memoria questa Via Crucis la quarta del suo pontificato è stata la preghiera di Francesco. Ancora oggi la croce la vediamo eretta nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli uccisi, bruciati vivi, sgozzati e decapitati con le spade barbariche e con il silenzio vigliacco. La vediamo nei fondamentalismi e nel terrorismo dei seguaci di qualche religione che profanano il nome di Dio e lo utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze la vediamo anche nei volti dei bambini che fuggono dalle guerre nel nostro mar Mediterraneo e nel mare Geo divenuti un insaziabile cimitero immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata. E' durissima la reazione italiana all'ultima versione che arriva dall'Egitto sulla morte di Giulio Leggiani vogliamo la verità e soltanto la verità dice il ministro degli esteri Paolo Gentiloni dopo che dal Cairo è arrivata la notizia l'altro giorno che secondo le autorità di polizia di quel paese il nostro ricercatore sarebbe rimasto vittima di una banda della criminalità comune rapinatori e sequestratori anche Palazzo Chigi con fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il nostro paese vuole assolutamente dal Cairo solo la verità e ancora muro contro muro sul caso Leggiani di fronte all'ultima versione delle autorità egiziane sulla morte del giovane ricercatore il ministero dell'interno del Cairo sostiene di aver individuato la banda che avrebbe rapito ed eliminato il ragazzo trovato morto due mesi fa in un burrone lungo l'autostrada quattro criminali che sono stati uccisi giovedì dentro questo pulmino in un conflitto a fuoco con la polizia alla periferia del Cairo nella casa della sorella del capo della banda la polizia avrebbe rinvenuto una borsa con gli effetti personali di Reggeni il passaporto una carta di credito i badge dell'università e anche due cellulari che non erano ancora stati trovati gli oggetti sono stati messi su un piatto d'argento e postati come un trofeo sulla pagina facebook del ministero dell'interno egiziano secondo le autorità del Cairo Reggeni sarebbe stato ucciso da questa gang perché aveva fatto resistenza ad una rapina gli investigatori italiani non ci stanno e parlano di una versione di comodo un modo sbrigativo per chiudere il caso e scaricare su criminali comuni le responsabilità del delitto che interesse avevano dei criminali comuni a conservare per due mesi quel materiale che era diventato roba che scotta perché non se ne sono disfatti e poi perché una banda di rapinatori avrebbe torturato Reggeni per almeno una settimana come dimostrano le autopsie non c'è alcun elemento certo che confermi la responsabilità di quei banditi taglia corto il capo della procura di Roma Pignatone scatta la furia della famiglia Reggeni il governo italiano reagisca a questa messa in scena e il ministro degli esseri gentiloni su Twitter l'Italia insiste vogliamo la verità una grande perdita per il mondo del teatro italiano non vedremo più Paolo Poli Paolo Poli avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 23 maggio è stato uno degli attori più importanti del teatro italiano data Firenze nel 1929 iniziò la carriera teatrale negli anni 50 con commedie brillanti surreali spesso oniriche il suo era un personaggio per lo più comico pungente a volte graffiante ma mai banale sempre in grado di stupire il pubblico in sala negli anni 60 l'esordio in Rai con una trasmissione televisiva dove legge favole per bambini tratte da Esopo nel 1961 la conduzione di Canzonissima assieme a Sandra Mondaini nel 1974 si esibisce in travesti nella trasmissione Mille luci con Mina e Raffaella Carrà in quello che ancora oggi è considerato uno dei migliori programmi della storia televisiva italiana ma il vero amore di Paolo Poli è sempre stato il palcoscenico tanto da essere spesso definito l'enfant terrible del teatro italiano proprio per il suo genio e la sua eriverenza il grande attore non ha mai fatto mistero della propria omosessualità che trattava con una leggerezza ed una disinvoltura incredibili con la stessa leggerezza trattava il tema della morte come fece nel 2012 alla 7 ospite delle invasioni barbariche non è senza qualche dolcezza anche la vecchiaia perché l'idea di rimanere perennemente lì a sedere davanti al nostro signore proprio non l'ha sopposto per quello tutti preferiscono l'inferno più variato avvisci sì più di tradizione sappiamo che hai questa passione ciao Avane buonasera la mia gente cubana con queste parole è stato aperto il concerto gratuito dei Rolling Stones che hanno che è stato offerto alla ciudad deportiva della capitale di Cuba uno show quello degli Stones simbolo del disgelo dopo la storica visita di Obama nell'isola un concerto al quale hanno assistito forse mezzo milione di persone in delirio sin dalle prime note dal pezzo Jumping Jack Flash con il quale la band britannica ha aperto il concerto per l'occasione i Rolling Stones hanno portato all'Havana lo show già collaudato nel trionfale tour sudamericano chiusosi proprio pochi giorni fa in Messico e veniamo allo sport la nazionale italiana dopo l'amichevole con la Spagna prepara l'altro grande appuntamento in vista degli europei di Francia che si apriranno fra poche decine di giorni martedì si gioca contro la Germania e le sensazioni che si sono avute con la Spagna vanno confermate prove tecniche di Germania a Coverciano il pareggio con la Spagna ha regalato una consapevolezza nuova agli azzurri la mano di Antonio Conte ma soprattutto le convinzioni trasmesse alla squadra sono state ripagate con una prova maiuscola che va ben al di là dell'uno a uno finale e l'Italia che è piaciuta di più e non soltanto al nostro CT è stata quella del secondo tempo Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi senza dimenticare lo Juventino Zazza hanno confezionato il gol del vantaggio azzurro col contributo di Emanuele Giaccherini autore dell'assist per la zampata vincente dello scugnizzo napoletano proprio Insigne lo scorso ottobre aveva visto incrinato il rapporto con Antonio Conte che dopo averlo convocato per i due match di qualificazione europea contro Azerbagiane e Norvegia non aveva gradito la decisione dell'attaccante di abbandonare il ritiro per un diplomatico problema al ginocchio guarda caso nell'imminenza del big match di campionato con la Fiorentina in netta contraddizione con il dogma di Conte che pretende l'attaccamento alla maglia azzurra prioritario rispetto a quella di club e il figlio al prodigo si è sdebitato con una prova maiuscola che solo il portiere spagnolo di Gea non ha reso indimenticabile deviando con un balzo il delizioso pallonetto di Insigne nei minuti finali serata da ricordare anche per il 22enne Federico Bernardeschi al debutto assoluto in azzurro e per il quale si sono già scommodate le grandi superpotenze Barcellona e Bayern Monaco e proprio nella capitale bavarese martedì nel match con la Germania Conte potrebbe rivedere alcune gerarchie iniziali pur affidandosi all'oramai collaudato 3-4-3 nel quale potrebbe entrare in corsa anche Stefano El-Sharawi che in nazionale ha fatto tutta la trafila iniziata con l'Under-16 un legame da rinnovare il suo grazie anche al club che lo ha rilanciato sono venuto nella Roma per cercare di rimettermi in gioco e dare una svolta alla mia carriera con l'obiettivo dell'europeo quindi sicuramente andare agli europei per me sarebbe un traguardo veramente importante un'informazione di servizio importante questa notte entra in vigore l'ora legale quindi ricordatevi di portare avanti gli orologi di un'ora potete anche non farlo fra le 2 e le 3 quando teoricamente l'ora dovrebbe essere cambiata bene ci fermiamo qui fra poco le previsioni meteo con Paolo Sottocorona subito dopo c'è Omnibus condotto da Marco Fratini alle 13.30 la prossima edizione del telegiornale noi ci vediamo domattina alle 6 e mezzo con Omnibus News grazie e arrivederci